ciao benvenuto in questo nuovo video oggi andiamo a studiare le ottave al contrario però perché perché normalmente noi le ottave a meno le ottave le penso sempre come dal basso verso l'altro basta pensare alla dance music disco music dove suono sempre prima l'ottava bassa e poi vado ad appoggiarmi sull'ottava acuta in questo caso invece fli ci dà un ottimo spunto nella canzone my cigarette per suonare le ottave al contrario cioè lui parte da quella alta e va appoggiare quella bassa in un riff discendente quindi andiamo a vederlo anche perché poi per tutta la canzone va a suonare questa cosa quindi può essere un ottimo spunto per esercitarsi allora partiamo dal si bemolle acuto la e poi andiamo a appoggiare un sol acuto che poi verrà seguito dalla nota sol grave come diteggiatura io ti consiglio per ti consiglio io posso dire quella che uso io vado usare o il dito 3 o il 4 per prendere l'ottava acuta e poi andrò a prendere l'indice per l'ottava bassa quindi adesso uso il mignolo ad esempio il mignolo indice scendo di mezzo tono la e poi vado a prendere questo sol col dito 1 vado a prenderlo col dito 1 perché è molto ravvicinato mentre invece poi ho del tempo per spostare di nuovo l'uno sul sol basso mentre invece se l'avessi preso con l'altra diteggiatura sì questa qua mi risulta poi più facile però questo sol qua rischio di arrivarci tardi perché è un bello spostamento dall'indice al mignolo o l'anulare che va lì quindi allora preferisco farlo tutto con un dito tipo un barrè quindi ho suonato il la scivolo ne vado a suonare il sol acuto abbassando il resto del dito quindi abbiamo questo due volte poi andiamo come da trascrizione a prendere le note di passaggio per la parte successiva lui deve cadere su la va a usare le note sol la si bemolle do si bemolle la e poi ribatte la in battere quindi il la e sia l'ultimo sedicesimo che il il battere della terza battuta ok quindi dopo va a prendere il la basso dopo mette ancora delle note di passaggio per andare sul do do e re e queste note io le vado a prendere a mano aperta quindi anche qua altro esercizio tecnico si bemolle la sol mi bemolle quindi con le dita 4 3 1 2 per poi cadere sul do al tasto 3 questi qua sono questo un ottavo lui ogni tanto lo fa anche solo con un quarto però la differenza è molto sottile qua nella trascrizione abbiamo l'ottavo poi saliamo sul re io ci salgo già con l'indice perché poi devo preparare la mano di nuovo andare a prendere sull'ultimo quarto mette 4 sedicesimi che lanciano poi il il riff il sol e imbattere dell'uno mentre il quarto la quarta pulsazione dell'ultima battuta è quella che va a lanciare e lo fa con con l'ottavo e quindi uno passaggio la do e riparto passaggio passo passaggio do e poi riparto così via è un brano ipnotico lui lo suona molto rilassato come molto rilassata anche la voce un pezzo davvero davvero divertente e carino bene noi ci vediamo allora al prossimo video grazie per avermi seguito fin qui guarda la trascrizione prova a ricostruirlo e noi ci vediamo al prossimo video ciao a presto